Salve amici appassionati di Football Manager, qui con voi come sempre c'è Mike 94, ovviamente Football Manager Italia Siamo qui di nuovo Football Manager 2019 con il nostro mitico Santa Clara E oggi episodio completamente dedicato al calciomercato perché ci sono parecchie novità Sia per quanto riguarda le cessioni sia per quanto riguarda gli acquisti Le amichevoli sono andate abbastanza bene, la prima l'abbiamo vinta agevolmente per 6-0 Per quanto riguarda la seconda invece abbiamo pareggiato 1-1 col Braga Ma ragazzi il Braga ci ha segnato al 92esimo dove giocavamo praticamente con tutta la squadra di riserva Non vi faccio vedere i marcatori perché sennò già vi spoilerò gli acquisti che ho fatto Per quanto riguarda le cessioni già immaginavo che sarebbe stato veramente molto difficile vendere i nostri esuberi Infatti già vi dico che fra le varie operazioni in uscita c'è stata solamente una cessione a titolo definitivo E il resto sono tutti prestiti con diritto di riscatto, neanche con obbligo Però ragazzi alla fine l'importante era mandare via gli esuberi, giocatori che non ci servivano per fare spazio ad altri giocatori molto più forti Per quanto riguarda la prima cessione, diciamo il primo prestito Ho mandato via Caio Fernando che si è unito all'Ugnao Madeira Che praticamente ci paga il 100% dell'ingaggio in più alla possibilità di riscattarlo a 80.000€ Sarebbe una grande cosa piazzarlo per quella cifra Però ragazzi non ci spero più di tanto, per me comunque l'importante è averlo mandato via almeno per quest'anno Perché è praticamente inutile alla prima squadra Un'altra cessione sempre in prestito ovviamente è quella di Candè Tersino sinistro che nel primo video col Santa Clara avevo detto che avremmo potuto tenere senza troppi problemi Perché comunque come riserva ci stava Però mi è arrivata questa offerta di prestito, ci davano praticamente il 100% dell'ingaggio In più in teoria hanno la possibilità di acquistarlo per 275.000€ E sinceramente se eserciteranno questo diritto per noi sarebbero bei soldi Per un giocatore che sinceramente non può fare che la riserva, ma la riserva scarsa Quindi per me è una buona cessione anche questa Abbiamo mandato anche un altro giovinastro in prestito che è Denis Pineda all'Accademia In questo caso ci pagano anche ben 800€ al mese come prestito oneroso Quindi bei soldi, ovviamente sono ironico E poi vabbè ci hanno sempre il diritto di riscatto per 150.000€ Sinceramente ragazzi se già uno solo di questi giocatori ceduti viene riscattato Per me è festa nazionale Comunque anche in questo caso il giocatore che ci serviva ben poco Non giochiamo con gli esterni Era comunque uno dei più scarsi in prima squadra Quindi prestito buono sia per lui che può crescere Sia per noi che non abbiamo in prima squadra un giocatore che praticamente non ci serve La cessione che adesso vi mostrerò Devo dire che è nata grazie a un vostro commento Un commento di uno di voi Perché questo ragazzo mi ha detto Ma Mike, la rosa è già abbastanza buona Non devi fare poi chissà quali operazioni Non sarebbe meglio prendere anche un buon portiere Effettivamente già ci stavo un po' pensando Ed è vero Ci serviva un portiere veramente forte Per giocare in prima categoria portoghese E quindi ho provato a mandare via Prima cedendolo e poi ovviamente in prestito Serginho Vabbè portiere di 35 anni Che ci serviva veramente a poco a nulla È sicuramente un portiere importante per questa squadra Visto che è stata al 2013 Però ragazzi se vogliamo migliorare questa squadra Per provare a fare un campionato buono Almeno nel primo anno Dovevamo mandare via comunque dei giocatori E secondo me questa è stata una buona cessione In questo caso non c'è il diritto di scatto Anche perché va in scadenza E quanto ci potremmo fare? 2000 euro Però almeno ci pagano il 100% dell'ingaggio Risparmiamo 50.000 euro E poi l'anno prossimo se ne andrà via In scadenza E non avremo più un giocatore Che non ci serve Che ha 35 anni E che veramente non può più dire nulla A questa squadra Ultima cessione in prestito È quella di Pablo Qui veramente ci facciamo bei soldi Perché oltre al 100% dell'ingaggio Ci danno ben 22.000 euro al mese Come prestito oneroso Che sono comunque ragazzi Circa 200.000 euro Mica vizze fichi In più potrebbero riscattarlo Per una cifra intorno ai 300.000 euro E insomma qui è un'operazione Un bel po' più remunerativa Pablo diciamo che è un giocatore Che a me non piaceva più di tanto Come già detto mille volte Noi non giochiamo con gli esterni Quindi era un giocatore Che doveva essere ceduto E quindi per me è stata un'ottima operazione Mandarlo via Io spero ovviamente che ce lo riscatteranno Così ci facciamo un bel po' di soldini Ultima cessione In questo caso a titolo definitivo È quella di Minocia al Chavez Per ben 235.000 euro Non è affatto un giocatore scarso È un giocatore che potevamo anche tenere Però effettivamente è stata l'unica offerta A titolo definitivo che ci è arrivata Per un giocatore di 30 anni Per un giocatore che è principalmente un esterno Per un giocatore che è sì forte Ma non è nemmeno questo mostro sacro E quindi sinceramente ho preferito vendolo Anche perché ragazzi esterni li abbiamo parecchi Non li usiamo A centrocampo siamo pieni di giocatori Che possono giocare a centrocampo E anche come trequartisti Quindi l'ho venduto senza farmi troppi problemi Nessuno ha detto niente Quindi arrivederci e grazie Per quanto riguarda gli acquisti Se ben vi ricordate ci servivano Due o tre difensori centrali Un attaccante Con la cessione di Serginio Un portiere Con la cessione di Candè Un terzino sinistro Ragazzi purtroppo qui Ho avuto un po' di problemi Perché la maggior parte dei giocatori Che volevo prendere a parametro zero Si rifiutava di trattare con noi Perché dicevano che non avevamo Le possibilità economiche Per soddisfare le loro richieste Quindi a parte un solo grandissimo Mega incredibile colpo di mercato Sono stato costretto a prendere Tutti i giocatori in prestito Perché veramente tutti i giocatori Che volevo a parametro zero Non hanno neanche trattato con noi E poi vabbè C'erano altri che volevano venire Ma erano scarsi Quindi molti colpi in prestito Però alla fine Per quest'anno ci può anche stare Cerchiamo di fare un buon campionato Di migliorare la pila Di avere un po' più di soldi E poi di migliorare ancora di più la squadra Il primo giocatore che abbiamo preso in prestito È Marco Migliorini Dalla Salernitana Paghiamo il 30% del suo ingaggio 75.000 euro È un difensore che ha comunque Buone qualità mentali e fisiche Poi ha un ottimo colpo di testa Buoni contrasti E anche buona marcatura Ovviamente non è un grande giocatore tecnico Ma ragazzi Per questo Santa Clara Marco è oro colato Ci potrà dare sicuramente Una grande mano Non ho potuto neanche mettere il diritto di riscatto Perché comunque la Salernitana Chiedeva bei soldi Lui neanche voleva venire A titolo definitivo Però insomma Ripeto Cerchiamo di fare bene quest'anno Di aumentare la pila E poi migliorare ancora di più la squadra L'anno prossimo Un altro giocatore che abbiamo preso in prestito È Vladimir Che non vi saprò mai pronunciare Paghiamo il 30% dell'ingaggio Certo 114.000 euro Non sono pochi Però ragazzi Sapete bene Che trovare Terzini in generale È sempre molto difficile Ancora di più Con una pila Un budget Molto basso Alla fine ci serviva solamente Una riserva A sinistra E lui per me È ottimo Perché comunque Ha buone qualità fisiche Buone qualità mentali Discrete qualità tecniche C'è un buon contrasto Un buon dribbling Una buona marcatura Quindi sicuramente Ci potrà dare Una mano Poi ripeto Alla fine È una riserva Quindi ci può stare Candese ne voleva Praticamente andare via Poi comunque ci hanno fatto Una buona offerta Ho cercato un po' Di vari giocatori Lui alla fine Era l'unico propenso A venire Fra i migliori Diciamo E quindi sono abbastanza Contento di questo acquisto Un altro difensore centrale Che abbiamo preso È Guitan Dal Saragozza E qui devo dire Che è un bel difensore Abbiamo preso Veramente un bel difensore Perché ha ottime qualità tecniche Comunque c'ha Boh Tecnica Passaggi Marcatura Controllo palla Contrasti Colpo di testa C'ha anche vabbè Tiri da lontano Può giocare anche come Mediano Poi ha buone qualità Per cento dell'ingaggio 139 mila euro Che non sono pochi Ma ragazzi Abbiamo fatto un grosso upgrade Per quanto riguarda la porta È un portiere Veramente importante Per questa prima categoria Portoghese Per il nostro Santa Clara È molto più forte Rispetto agli altri portieri Che abbiamo Ancora di più Poi vabbè Di Serginio Per me è un portiere Veramente importante È stato titolare In serie A In serie B Quindi sicuramente Anche qui da noi Potrà fare Veramente molto molto bene In teoria Non so se in scadenza Sì Quindi potremmo anche provare Poi a prenderlo A parametro zero Ripeto Un grande portiere E qui abbiamo fatto Una grossa Miglioria Per quanto riguarda La squadra E sono contentissimo Del suo arrivo Ecco Ultimo giocatore Che abbiamo preso in prestito È Gigliotti Dalla Salernitana Anche qui paghiamo Il 30% dell'ingaggio Solamente 21 mila euro È un bel giocatore È un bel difensore Lo paghiamo Veramente una miseria Ci potrà dare Una grossa mano Ottime qualità mentali Buone qualità fisiche Tecnicamente pure È un discreto giocatore Comunque colpi di testa Contrasti e marcatura E sono comunque contento Ragazzi Perché rispetto Agli altri difensori centrali Che potevamo prendere Lui è veramente Orocolato È sicuramente Uno dei nostri migliori Difensori Il rosa Credo che giocherà Titolare Ripeto Sono contento Del suo arrivo E ci darà Una grande Grande mano E purtroppo ragazzi A causa Dello scasso appeal E dei pochi soldi Queste sono state Le operazioni Che ho potuto fare Però per me Abbiamo migliorato Parecchio la squadra Poi avevamo solamente Tre difensori centrali Noi giochiamo con la difesa Quindi ci servono per forza Altri tre Giocatori Per avere almeno Due giocatori Per ogni ruolo E secondo me Questi tre difensori Sono ottimi Ragazzi È arrivato il momento Di farvi vedere L'ultimo acquisto In questo caso A titolo definitivo Era un parametro zero Però ragazzi Sono parecchio Emozionato Perché è un giocatore Importantissimo Per me E credo Anche per molti voi È sicuramente Il giocatore Più rappresentativo Di questo canale Chi mi segue Dagli inizi Lo conosce per forza È un giocatore Che abbiamo amato Alla follia Ed è un giocatore Che sono anni Che dico Che avrei voluto Riprendere Perché Veramente È un giocatore Che ci ha fatto sognare Per di più Ultimamente Ho letto un articolo In cui Lui stesso Diceva Che molto probabilmente L'anno prossimo Se non troverà Una squadra Si ritirerà E quindi Dovevo per forza Prenderlo Già vi avviso Che Chiuderà la carriera Con noi Quindi non sarà ceduto Perché È un pezzo di cuore Potevo prendere Per quel ruolo Giocatori migliori Ma ragazzi Al cuore Non si comanda E quindi Dovevo per forza Prenderlo E Forse molti voi Già avranno capito Di chi sto parlando E Arrivato il momento Di presentarvi Al Santa Clara Il grandissimo Ebagua Qui ci vorrebbero Gli applausi I pianti Le emozioni Che dire ragazzi È un pezzo di cuore Sapete che Di solito Io Le carriere Le faccio sempre Con La ragione E mai col sentimento Quindi cerco sempre Di prendere Giocatori migliori Così come alla fine Ho fatto per tutti Gli altri ruoli Però qua Sono stato obbligato A prenderlo Trasciando che Comunque non è scarso È Ottimo Qualità fisiche Mentalmente Comunque valido Tecnicamente È un signor giocatore Potevo sicuramente Prendere Di meglio Perché ci sono Diversi attaccanti Svincolati Forti Anche che Potevo prendere In prestito Però ragazzi Stiamo parlando Di Ebagua Ebagua C'è Che è stato Forse uno dei giocatori Più importanti Nella carriera Dello Spezia Che ci ha portato In Serie A Che ci ha fatto Vincere la Coppa Italia Che ci ha fatto Vincere l'Europa League E poi anche La Champions League Con lo Spezia E dove ho per forza Prendolo ragazzi Ripeto Un giocatore per me Fin troppo importante Ed è un'emozione Vederlo in campo Il gol Che è stato fatto Al Braga Dal Santa Clara Dalla nostra squadra È suo E devo dire Che quando l'ho visto Segnare È stata veramente Una grande emozione E spero che sarà Anche un'emozione Per tutti voi O comunque per i ragazzi Che mi seguono Fin dagli albori Perché ragazzi E Bagua È un pezzo di cuore Sta anche nella copertina Del canale Quindi Nella home Del canale Quindi Di che cosa parliamo Che poi mi sono dimenticato Di dire Che ringrazio Sempre il mio amico Pietro Perché è stata Cioè ha fatto lui La copertina L'anteprima Dei video Del Santa Clara Quindi ti ringrazio Ovviamente sempre E nulla raga E Bagua Doveva essere preso E io sono emozionato Quando ha firmato Per me è stata Una grandissima emozione Sia perché comunque È un buon giocatore È veramente valido E poi E Bagua Poi si prende solamente 45.000 euro Contratto fino al 2020 Però vabbè C'è anche La possibilità di rinnovare Per un altro anno Ma nel caso poi Lo vorremmo firmare Fino al 2024 Finché non si ritira Io sono ovviamente Contentissimo Di questo acquisto È anche Emozionato E posso dire Anche che Praticamente La squadra È completa A meno che Non ci siano Non ci saranno Nuove cessioni Non arriverà Più nessuno Perché Numericamente Siamo messi benissimo Anzi Forse siamo pure Troppi Però vabbè Io per il momento Rimango così Anche perché I giocatori che abbiamo In prestito Non li posso Mandare via Gli altri giocatori Che sono un po' scarsi Tipo Evouna Non hanno offerte Quindi bene o male Credo che La squadra Questa sarà Ripeto A meno di colpi di scena Su in porta Abbiamo Belec E Marco Poi ce l'abbiamo Anche Lopez Poi in difesa Gigliotti Cardoso Migliorini Guitan Accioli E Cesar Poi vabbè Patrick Ruizilva Lucas E Vladimir Poi Rashid Marquez Poi in centrocampo Abbiamo Carvaglio Ramos Paceco E Krien Che giocherà Anche come trequartista Poi c'è Lamas E appunto Krien Poi c'è anche Zemanuel E Ucra E Bagua E Tiago Santana Insieme poi ovviamente Anche a Paolo Clemente Che fra tre o quattro mesi Ritornerà E poi anche Bona Che sinceramente è abbastanza scarso Però ripeto Non lo riusciamo a cedere E poi vabbè Anche Zemanuel E Ucra Possono sicuramente Anche loro Giocare In attacco Li sto facendo allenare Non sono proprio perfetti lì Però sicuramente Una grande mano Ce la possono dare Detto questo ragazzi Il mercato Per il momento È finito Ripeto A meno di colpi di scena Questa sarà la squadra Anche perché ci mancano 15 giorni Due settimane Alla prima partita ufficiale Proprio per questo Ho cercato di fare Il prima possibile Per completare la squadra E quindi molto probabilmente Il prossimo video Vedrà l'esordio Del nostro Santa Clara In Coppa di Lega Speriamo di fare figure Barbine E poi ovviamente A bomba con il campionato Cercando di andare Anche abbastanza velocemente Perché comunque Vorrei fare diversi anni Per cercare una squadra Che possa essere protagonista Sia nel Portogallo Nel campionato portoghese Sia ovviamente Anche in Europa Ovviamente non punto A vincere la Champions League Ma già Fare una buona figura In Europa League Sarebbe una grandissima Soddisfazione E intanto voglio farvi vedere Ragazzi È bagua È bagua Cioè Sempre alla grande Detto ciò Io spero che questo video Vi sia piaciuto Come sempre lasciate like Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Alla pagina Facebook Trovate il link Qui sotto in descrizione Grazie per tutto quello che fate E come sempre Un saluto da Mike44 Venite anche da Football Manager Italia Ciao ragazzi